Siamo arrivati alla vigilia del campionato di Serie C femminile con Nicoletta Mazza, parliamo di questo impegno contro il Venezia che segna l'esordio appunto nella stagione. Sì, non vediamo l'ora di cominciare, abbiamo lavorato un bel mesetto abbondante per questo inizio di campionato, le ragazze stanno bene, non è stato semplice perché appunto un gruppo che alla fine non è completamente nuovo ma per tanti versi sì. Siamo pronte però, siamo cariche e non vediamo l'ora di iniziare, di misurarci. L'obiettivo di questa stagione, di quale piazzamento saresti contenta? Allora, purtroppo per fortuna vince una squadra sola e quindi arrivare lì è sempre molto complicato. Noi proveremo a fare più gol possibili e prenderne meno possibili. Questo è il primo obiettivo e poi man mano si vedrà di che pasta siamo fatte e cosa possiamo dire realmente.